questa è una situazione brutta qui dicono sì adesso vediamo patrizio artista di strada che è stata aggredita da patrizio officio il primo frame denota un sorriso tutti sono l'artista di patrizio questa ragazza l'artista di strada ha detto faccia di merda non ti permettere mai più a patrizio e sta rispondendo a questo tic toc spiegando la sua versione poi ci sarà anche la versione tra virgolette di patrizio con la live integrale che ho visto postata da un'altra pagina ok integrale cioè la parte la parte in questione ma che sta succedendo sono molto preoccupato sembrava più lei incazzata poi non so che ha fatto lui di questo video e vi dirò la mia verità quello che non sapete che il giorno prima io sono stata molestata da questa persona ero in via garibaldi a torino mi stavo esibendo parentesi esibendo con i permessi perché noi artisti di strada abbiamo dei permessi autorizzati dal comune per esibirci in strada e meno male quindi sta 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 dicendo che anche gli streamer dovrebbero averli potrebbe anche avere senso avrebbe a livello dei riprese video se non occupi il suolo pubblico con treppiedi in teoria non dovresti però non so loro fanno comunque una performance in effetti sono cose diverse ragazzi in senso cioè è vero ne abbiamo parlato perché loro stanno fisicamente immobili e quindi di conseguenza nella maggior parte dei casi occupano uno spazio e poi per tante ore non è la stessa cosa della persona che magari sta in giro con un telefono in mano certo secondo me l'unica critica che si può fare alle il discorso privacy il fatto di suolo pubblico autorizzazione del comune secondo me non regge se la ragazza sta di questo sta spararagazzata ma infatti potrebbe avere senso in senso andare a normare il discorso di rl abbiamo fatto più volte in maniera sintetica assolutamente sia un conto dell'occupazione del suolo pubblico esempio anche per scaricare in pochi minuti del materiale per i boscar dobbiamo mandare al comune una richiesta in quel caso di milano una richiesta per l'occupazione del suolo pubblico per tot minuti nel momento in cui arrivano dei materiali e ci sono i camion di lì lo stesso vari per non erano si tratta che legali c'è di di base cosa le earl in italia stavo facendo la questione che in realtà normare in questo caso significherebbe in realtà renderlo legale perché attualmente non si potrebbe riprendere gente in condividere sta stavo arrivando alla distinzione il fatto è che un conto se parliamo di occupazione del suolo pubblico quello che dicevate voi e quello che riguarda la ragazza in questione un conto è il discorso il rl rl nato ovviamente in america dove ci sono normative diverse per la privacy in italia di base tu puoi registrare quello che vuoi ma non puoi pubblicarlo senza il consenso delle persone quindi una live chiaramente è già una registrazione con pubblicazione istantanea ergo andrebbe sistemata la questione perché altrimenti tu dovresti avere la liberatoria oppure anche un consenso mi ricordo questo lo disse un avvocato forse che capo o angelo greco un consenso implicito tipo sto in live rl un ragazzo consapevole della ripresa viene lì parla la videocamera eccetera quello è un consenso implicito però molto spesso vengono riprese persone anche inconsapevoli questo è il discorso e quindi stavo dicendo potrebbe avere senso la regolamentazione delle live rl in generale poi la questione del suolo pubblico è diversa sono due questioni slegate e quindi appunto ero lì che stavo cantando ero seduta da lontano vedo sto ragazzo che arriva con un gingillo in mano e me lo schiaffa a un centimetro dalla faccia e parla con della gente io penso con quelli con cui stava facendo la sua diretta perché di questa diretta me l'avrà detto mille volte sto facendo la live sto facendo la live bene io mi spavento mollo la chitarra mi interrompo gli dico scusa ma ti sembra il modo e lui mi dice beh canta no sei qui per cantare hai detto sì ma io mi stai esibendo tu mi arrivi con sto coso a un centimetro dalla faccia mi spaventi abbi pazienza vediamo poi sì devi anche ringraziare queste parole corrispondono a verità eh dalla clip che abbiamo preparato sì ovviamente non ho fatto la distinzione nel momento in cui sei un giornalista o stai offrendo un servizio pubblico puoi riprendere anche delle persone all'interno di un suolo pubblico con manifestazioni cose di quel tipo però non parliamo di giornalisti pubblicisti o se sei cicalone in quel caso è un servizio pubblico infatti anche se non normato in chat anche Jonas dice che non è vero c'è la clip ragazzi tranquilli che ti sto facendo vedere da 800 mila persone non è questo che vuoi fare non è la diva che vuoi fare io dico sì ma non ci si comporta così comunque sono una ragazza sto facendo il mio lavoro tu mi stai interrompendo in una maniera comunque anche brusca mentre io mi sto esibendo ma l'educazione dove te l'hanno insegnata se te l'hanno insegnata quindi questo è quello che è successo il giorno prima poi lui se n'è andato adesso non mi ricordo se insultandomi o altro e io non mi sono più ma il fatto che lei sia una ragazza un agravante? no su cosa? e che ne so l'ha messa come agravante? no per così per capire non è più andata avanti con la mia esibizione perché ero spaventata perché ero sconvolta dal modo in cui si era comportato sto ragazzo il giorno dopo nel video vedete lo vedo presa dalla rabbia mollo tutto e tra l'altro c'erano altre persone in quel momento lì con me infatti mi hanno fatto un video dove si vede la reazione dopo che io gli arrivo lì davanti dopo la brutta reazione iniziale e incominciamo a parlare gli spiego guarda non si fa così ho detto a te ti piacerebbe se io arrivo e ti metto una mano davanti alla faccia io gli faccio proprio questa cosa io se riesco a recuperare il video ve lo posso e lui mi leva il braccio si incazza incomincia a fare il pazzo gli dico ti dà fastidio mi fa sì non mi devi toccare faccio innanzitutto non ti ho toccato ma esattamente quello che hai fatto tu con me ieri al che incominciamo a darci una calmata a quei toni addirittura se non sbaglio lui è pugliese quindi incominciamo anche a tra virgolette scherzarci su si scusa mi fa anche complimenti dice comunque scusa sei molto brava la prossima volta farò attenzione a a come a come mi pongo a come arrivo non volevo farti spaventare bibibibibà questo è la fine dell'inizio di quel video che ha postato lui purtroppo per avere dei like al giorno d'oggi si fa qualsiasi cosa ti regalo anche questi due minuti di gloria buona musica a tutti aggredita però un po' esagerata vediamo la clip anche eccolo vediamo se corrisponde a parte che c'è scritto tutta colpa di marracerbero quindi l'ho vista perché mi hanno taggato sopra vabbè voglio vedere che cazzo c'entro io ero in via garibaldi a torino mi stavo esibendo da lontano vedo sto ragazzo che arriva con un gingillo in mano e me lo schiaffa a un centimetro dalla faccia io mi spavento mollo la chitarra mi interrompo e gli dico scusa ma how many days you stay in torino ciao posso sapere che cosa stai facendo no vabbè no vabbè scusami è arrivato un ride dal cerbero mille persone dal cerbero cioè è lei che la chiama mi sembra leggermente diversa la storia no vabbè pazzesco lui stava parlando con due tipe è lei che ha rosicato che gli stava a rubare la scena perché c'erano mille persone e lui ha fatto sta cosa oppure è interessata era interessata ma poi non ha capito che succedeva e ha rosicato ha rosicato how many days sì ma perché all'inizio era interessata poi quando lui inizia a fare vedo mille persone dal cerbero non capisce e rosica la domanda è ciao perché mentire se sai che c'è una live pubblica ma chi è che dice ciao sono una cantante sembra un alert dio bello è lei che lo chiama sì è lei c'è pure qualcun altro c'è un'altra persona pure con lui che dice che c'è la cantante posso sapere che cosa stai facendo no vabbè scusami è arrivato un ride dal cerbero mille persone dal cerbero maiali cerberiani schifosi sempre a dominarmi sempre a parlare degli altri eh questo pausa un attimo allora lei avrà coscia dopo secondo me è rosicato buffo lei perché poi alla fine stavano per interagire e poi lui fa tutto il mille dal ride al cerbero non capendo che sta succedendo un po' da boomer secondo me ma ma perché secondo te lei lo ha chiamato ora in questo eh perché stava all'albole dunco l'ha fatto c'era la cantante lui sì sono la cantante che stai facendo posso sapere voleva interagire ma poi dopo a quanto pare ma già adesso sembra che stia rosicando ma già adesso sta rosicando io questo sto dicendo già adesso sta rosicando perché già adesso sta rosicando ma io posso sapere che Patrizio sta là a me sembra che qui ha interrotto la performance e gli sta dicendo con un tono accusatorio posso sapere che stai facendo ma secondo me potrebbe essere pure il coccio dici se è nervosita pure perché Danco l'ha fatto c'è la cantante capito eh il coccio dopo ha iniziato a dire ha iniziato a dire ah il cerbero ah può assegure sì sì quei maiali che ne so comunque è Danco è molto originale dice sempre le stesse cose incredibili è uno stream deck no vabbè scusami è arrivato un ride dal cerbero mille persone dal cerbero maiali cerberiani schifosi sempre a nominarmi sempre a parlare degli altri un attimo prima il cerbero arrivo subito tu mi hai interrotto mentre io sta voce bene non si fa quindi non puoi pretendere che le persone facciano quello che vuoi tu mi sembra giusto no ma non non l'abbiamo interrotto mi hai chiamato mi hai schiaffato sta cosa in faccia mi hai parlato io non ho capito giustamente cosa stessi dicendo quindi volevo anche ascoltarti ma mi è risultato difficile mi perdono mi perdono io la perdono però se via fa casino un po' più avanti a papà mi fa un piacere oh e c'è limato grazie grazie gentilissima ciao un attimo pausa si era già nervosito perché stavano fa casino là palesemente questa clip è iniziata troppo tardi dovevamo vedere anche un minuto prima regà ma di che cazzo stiamo a parlare effettivamente questo può essere questo può essere ma manca manca la parte prima che toccherebbe vedere perché lei sta raccontando anche qui una parte che è avvenuta prima vai finisce questa poi cerchiamo su youtube esatto ce la linka perché ci abbiamo vai vai oh ma che gli pezzi soffronzi scusa scusaci scusa a me non me la paga nessuno mi sai oh è un attimo un attimo una donazione una donazione una donazione si faccia perdonare si faccia perdonare ma che cazzo baby share si assurdo buon lavoro buon lavoro vabbè sembra fare casino però sei ma no ma non sono io io ho fatto sempre la persona educata ma no ma no si fanno appuntate di due ore no vabbè ma il cerbero dai ma non me la spe e ci avrà ragione pure il coccia però quello che voglio di io la signorina perché la signorina c'ha perfettamente ragione se voi ci fate caso lei si stava immolando in una performance che non riesce a vedere neanche le mani per quanto andava veloce sulla chitarra magari ha ricevuto disturbo che non la vedevi come suonava ah probabilmente prima prima stava già cantando suonando Richard Benson l'interazione è diversa da come l'ha descritta lei cioè questa sì però stava parlando con quelle due ragazze poi sì ma lei nel video stesso fa riferimento ad una cosa successa prima di quando è iniziata la clip quindi non mi convince come la totale versione dei fatti mi sembra logico vedi un po' se c'è su youtube Marco metti Patrizio artista di strada ma Dancol o o o o Patrizio se stanno in chat entra pure su discord magari volendo magari ci raccontano meglio che ne so almeno cerchiamo di risolvere questo giallo ciao Dancol le spacca quella dana da sorcio che si ritrova dici che è successo io so tutto visto tutto vai dici tutto testimone oculare allora c'è un prima un prima di quella scena noi eravamo lì ci siamo avvicinati la ragazza stava suonando ma non abbiamo fatto nessun intervento diciamo di disturbo anzi mi ricordo che Patrizio si era messo lì davanti a sta ragazza sembrava che la stesse inquadrando in realtà stava provando il suo zoom della telecamera tipo al palazzo di fronte quindi stava facendo uno zoom e si è fermato tipo 30 secondi e sembrava che la stesse riprendendo poi io sono andato dietro ho detto ma che cazzo sta riprendendo e stava riprendendo semplicemente il tipo non so se l'insegno o qualcosa del muro di fronte per far vedere la qualità della telecamera quando lei dice mi avete interrotto si riferisce secondo me lei in quel momento quando noi eravamo lì quei 30 secondi si è sentita violata non so cosa si è sentita ed è un po' andata in soggezione probabilmente quando poi noi siamo andati via abbiamo incontrato queste altre ragazze lei si vede che ripensando ha detto muoichiamo ed è successo quello che avete visto quindi ci sono delle cose che non abbiamo visto sì però io sono testimone oculare soprattutto della prima diciamo di questo primo evento quello lì che abbiamo visto adesso e Patrizio è tutto purché è maleducato impertinente eccetera ho conosciuto un po' gli artisti di strada e so che comunque un pochetto si nervosiscono se qualcuno nel suo spazio attira l'attenzione fa casino urla e gli copre un po' anche quello quindi secondo me già da lì si era nervosita è per quello che ha fatto il discorso è per quello che ha detto del permesso cioè capito perché io ho messo ho il permesso per usare questo spazio per la mia performance poi a difesa ancora di Patrizio il giorno successivo lui era in giro tranquillo stava riprendendo delle bancarelle neanche sapeva che c'era quest'artista di strada più avanti quando lui si avvicina nella pertinenza questa ragazza questa qua parte lo attacca cioè anzi Patrizio è molto bravo perché stacca subito la live si cerca di scusarsi dove non c'è niente a scusarsi diciamo lui non aveva comunque aggredito non mi pare sia stato maleducato noi conosciamo anche Patrizio che magari non può essere chissà che come argomentazione però l'educazione è educato alla fine cioè è tutto show quello che fa che si c'era a e come si ah 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 Ciao